Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, volendo sì. Sì, adesso ritorna a Vignani, fa... Perché non ti riesci a rendere. No, 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 va avanti. Si vuole rimanere, può rimanere. No, torniamo dentro che siamo più raggi. Eh sì, certo. Sì, sì. Sì, sì. Ok. Ok, ora iniziamo. Ora iniziamo. Oh, eh. Sì, sì. Sì, sì. 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 Oh, eh. Sì, sì. 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 Grazie a tutti.